Bene, bene, l'appello l'abbiamo fatto, adesso passiamo alla lezione. Pierino, lascia stare la tua compagna di banco, altrimenti ti metto insieme a Giuseppe. Pietro, non si risulta. Dicevo, passiamo alla spiegazione. Oggi era la giornata destinata alla letteratura, mentre io ho deciso che passiamo alla grammatica. Qualcuno di voi per caso sa dirmi una frase che contenga il verbo mescere. Il verbo mescere. Io la so, professoressa. C'ho le puntate strette. Ma che cosa c'entra con il verbo mescere? Mescere, non balla da fuori.